Facile del previsto? Sì, non ci aspettavamo una partita del genere, però ne abbiamo battuto leggermente bene oggi e sono state brave a essere concentrate, nonostante il primo set siamo state imprecise e invece poi la squadra si è sciolta, ha lavorato bene, ha difesa, è stata ordinata e non c'è da aggiungere tanto, la battuta ha fatto la differenza e ero molto preoccupato, ma molto attento perché Roma ha dimostrato di essere una squadra che quando le lasci un pochino se ne approfitta ma oggi siamo stati bravi a non dare possibilità di entrare in gara quindi brave le ragazze, adesso pensiamo a Bergamo